amici di nerd games ben ritrovati nuova puntata della nostra serie podcast a qualcuno piace nerd puntata numero 45 e oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a un personaggio della schiera disney tra i più amati sicuramente se qualche tempo fa abbiamo fatto una puntata dedicata a tupolino che vi invito tra l'altro a recuperare vi ricordo che le trovate tutte sia su spotify sia sul nostro sito e ovviamente anche sul nostro canale youtube quest'oggi abbiamo deciso di dedicarci a paperino diciamo che è un po' l'alter ego per certi aspetti del topo più famoso forse del mondo animato perché il 9 giugno è stato il compleanno di paperino compleanno dovuto al suo debutto che ebbe luogo il 9 giugno del 1934 quindi stiamo parlando di un personaggio noto caratteristico sicuramente e allo stesso tempo che per diciamo certi aspetti può anche essere definito come anti eroe perché comunque e analizzeremo nel corso di questa puntata quali sono le caratteristiche che rendono così celebre poi da capire e fattocelo sapere se rendono anche così simpatico o così antipatico paperino scusatemi tra l'altro stiamo parlando di un personaggio che è riuscito anche a vincere un premio oscar dobbiamo risalire nel lontano 1943 quando per un corto animato vinse l'oscar dopo aver ironizzato e ridicolizzato la figura di adolf hitler quindi questo ci fa capire qual è la caratura di questo personaggio poi io personalmente ne sono estremamente affezionato più volte in diverse puntate ho sempre espresso il mio desiderio di poter vedere un giorno una serie animata dedicata a pk ossia paperinic e ovviamente nel corso della puntata apriremo anche un capitolo per così dire anche sulla parte diciamo di supereroe di quello che è appunto paperino e quindi un personaggio che ha sicuramente una sua valenza storica una sua valenza storica e una sua importanza all'interno proprio del mondo disney tant'è che una dichiarazione di walt disney è stata che per lui è sempre stato divertente lavorare con topolino pluto e tutta la banda ma diceva walt disney come in tutte le famiglie aveva un piccolo problema questo problema era identificato con paperino con paperino perché forse lui era il personaggio più umano più realistico più vicino alla realtà più vicino alle persone per la sua irascibilità per la sua poca pazienza anche per la sua famigerata sfortuna ecco quando si pensa a sfortuna non si può fare altro che pensare appunto al povero papero ecco con la sua targa 313 della sua auto è interessante comunque allargandoci un po' da quello che può essere il percorso diciamo e la casa disney fare un paragone con un'altra major che sicuramente per certi aspetti può essere paragonata disney in tema di cartone animati che warner bross di fatti sarà un caso o non lo so se da una parte abbiamo topolino e dall'altra abbiamo un bucks bunny che sono due le maldifferenti un coniglio un topo però in entrambe le le parti abbiamo paperino e daffy duck quindi diciamo sono due personaggi estremamente simili anche daffy duck è noto per la sua proverbiale poca pazienza anche daffy duck è abbastanza noto per la sua sfortuna non gli va mai mai bene niente ed è interessante comunque capire come forse proprio la presenza di questi personaggi a rendere grandi gli altri forse proprio la presenza di un personaggio a fianco a topolino come paperino a rendere topolino grande come di fatto è e allo stesso modo daffy duck fa lo stesso con box bunny quindi sono due ottime spalle che servono sono personaggi che forse definire secondari o lo stesso termine che ho utilizzato io spalla non è corretto perché comunque hanno una caratura importante che forse addirittura io se vogliamo passare a pensare appunto a parlare di spalla magari si pensa più a un personaggio di pippo ecco per dire in questa puntata non sono non sono solo si unisce a questo discorso anche Mauro che saluto per essersi connesso con noi ciao a tutti il mio finto attico perfetto perché ci stai guardando stiamo sognando tutti il tuo finto attico eravamo arrivati a un punto in cui stavamo diciamo analizzando un po' il confronto il paragone che ci possono essere tra le figure di Duffy Duck e di Paperino e come sia forse riduttivo definirli personaggi secondari o spalle ma come forse siano effettivamente loro a rendere grandi rispettivamente Bugs Bagni e Topolino quindi non so se vuoi entrare a gamba tesa su questo su questo argomento e poi se vuoi anche un tuo ricordo personale su Paperino di cui io per cui ho già dichiarato il mio amore ma non solo in questa puntata ma anche in altre precedenti allora saluto a tutti prima di tutto secondo me sia Paperino che Daffiano sono riusciti a mettere in pratica un aspetto interessante cioè proprio quello del ribaltamento cioè del partire che mi spalla oggettivamente e avere i favori del pubblico assolutamente il cosiddetto non il voto della critica ma sicuramente quello del pubblico in parte tutte e due si autocitano e anche un po' si autoplagiano e sicuramente Paperino ha avuto una storia ben più intricata perché ha dovuto meritarsi lo spazio diciamo non c'è stato fin da subito sicuramente a me ha colpito per la prima volta Paperino ha colpito un sacco do due ricordi uno è il canto di Natale di Topolino dove comunque la sua interpretazione che non è se stesso però è il nipote di Scrooge super ottimista mi ha fatto effetto perché è il contrario di com'è Paperino di solito e la seconda parte è proprio legata alle storie alle storie fumetti di Topolino nel senso di sia tutti e due filoni sia quello diciamo un pochettino più comico in cui è affiancato o dai nipotini o da Paperoga sia proprio come quando è inviato dallo zione a fare qualche 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 missione però sì sicuramente è un personaggio che dà più spunti narrativi rispetto a al suo capo e quanto secondo te la fortuna di Paperino è data dal fatto che forse tra i personaggi canonici diciamo diciamo così è quello forse più diciamo umano nel senso più che sentiamo forse più vicino per determinate caratteristiche io prima ho citato la poca pazienza la facilità ad arrabbiarsi la sfortuna anche famigerata di Paperino cioè uno ci si affeziona perché ci si riede un po' ecco e l'immedesimazione c'è molto più facile assolutamente c'è un effetto diciamo di legato a tutte quelle che sono le sue sfortune che che lo fa preferire senza dubbio certo quella irrascibilità tipo il magico gesto che c'era nel cartone fare così che poi ho scoperto essere il pugno che prende la mira e l'altro che carica quando sta arrabbiato cioè così l'altro braccio come freccia esatto il braccio davanti è esattamente esatto il mirino e no no poi secondo me no no è sicuramente il personaggio più completo adesso lui era comparso nella gallinella saggia quindi a differenza di no non è vero come quasi tutti quelli di quell'epoca lì compare prima come cartone animato sì esatto poi è anche sparito è questo che è incredibile di Paperino cioè che è riuscito a a riemergere da una terza fila proprio con un cartone secondo me divertentissimo che credo ci sia su Disney Plus che è il concerto per gli orfani dove appunto Topolino Topolino appunto la perfezione organizza il questo concerto e Paperino fa un po' da guastatore come anche anche quello c'è su Disney Plus l'altro cortometraggio della Panda il concerto bandistico dove lui ha il flautino e vorrebbe partecipare lì tra l'altro ha ancora il becco lungo perché nasce un pochino più proprio come Anna Tracura esatto si accorcia il becco sì 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 si accorcia e è anche un pochino più diventa un pochino più fuori prima è un pochino più barilotto anche sì sì mi rendo conto che era anche più facile da disegnare certo poi sempre per citare alcuni episodi analoghi nel 1988 nello speciale di buon compleanno Topolino lui viene accusato di aver sequestrato Topolino cioè far capire la caratura del personaggio io poi ho già menzionato è un Topolino è un Paperino a due facce soprattutto nel nostro paese perché io ho citato anche sia di presentazione proprio dei Nick sì sì quello è un po' anche la chiave di volta del successo di Paperino in Italia perlomeno perché ricordiamoci Paperinico è un prodotto italiano totalmente italiano nel bel lontano 1969 nasce nel 69 se non mi ricordo male Elisa Penn è uno dei due creatori ma tutti gli altri dati di Paperino che sono Fantomius Double Duck Pickup Pickup cioè tutto il resto è frutto dell'Italia questa è una cosa incredibile ed è probabilmente per questo che non lo vedremo mai in tv potremmo farci non una puntata come una serie di puntate sul mancato successo di Paperinic in America e non possiamo che accusarlo diciamo di una sorta di protezionismo americano verso quelli che sono i loro prodotti tant'è che poi loro hanno sfornato Darkwing Duck esatto sto facendo proprio quello poi arriva Darkwing Duck che è una via di mezzo di parodia tra Paperinic e Batman che ricordiamo qui siamo già negli anni 90 cioè quasi 30 anni dopo 30 magari sono eccessi 22-23 anni dopo la nascita di Paperinic quindi ben consapevoli è stato gestito in una maniera nel vecchio continente ma assolutamente anche perché non come adesso ma già all'epoca comunque non c'era bisogno dell'approvazione per la pubblicazione di storie Disney ma era tutto sotto controllo figuriamoci certo cioè no sicuramente che fa effetto di di quegli anni è anche il fatto che per arrivare diciamo anche a un a una rivista perché vogliamo che esiste Paperino oltre Topolino quindi si chiama Paperino Mese ci sono voluti anche in quel caso almeno 50 anni è stato un processo secondo me di continua ascesa quello di Paperino in tutti i media in tutti ma continuerà secondo te cioè nel senso il successo di Paperino è destinato ad aumentare o comunque a un certo punto l'ombra di Topolino sarà così grande che andrà a coprire tutti ma in realtà eccetera invitiamo prima di tutto gli ascoltatori a recuperare la puntata su Topolino quello in principio era il topo esatto già citato anche in fase di presentazione ma ricordare fa sempre bene mi ricordo che avevamo proprio citato una parte del documentario che trovate sempre su Disney Plus salutiamo gli amici di Disney Plus infatti prima o poi ricordatevi di noi e dicevamo che a un certo punto Topolino scusate non si sapeva più come utilizzarlo era uscito dai radar totalmente per questo suo perfezionismo utilizzarlo un pochettino come l'americano medio però allo stesso tempo un po' scavezzacolla ecco diciamo questa crisi di identità io credo che Paperino non l'abbia ancora avuta ma l'avrà? allora secondo me è passato indenne fortunatamente da quella serie orribile che trovate su Disney Plus che è Quack Pack cioè il primo tentativo di dopo il primo Dactles diciamo dopo la prima versione di Dactles di fine anni 80 di fare dei dei tre nipotini degli adolescenti diversificarli un attimo e Paperino fa proprio il vecchio rimbambito e non credo che questa cosa gli abbia sicuramente giovato però va detto che casualmente Paperino in quella serie non era particolarmente apprezzabile la serie ha chiuso coincidenze? non lo so però una riflessione che mi è venuta in mente proprio mentre stiamo discutendo è anche curioso il fatto che ok puntata su Topolino cent'anni di Disney ha assolutamente tutto il senso del mondo e a questo punto ora che abbiamo fatto la puntata su Paperino c'è arrivo adesso la mia domanda anche per gli amici ascoltatori però secondo me non avrebbe senso fare una puntata su Pippo per dire cioè perché l'importanza che comunque ha Paperino che secondo me anche a livello di apparizioni a livello insomma di presenza scenica è inferiore a Pippo cioè si vede di più Pippo rispetto appunto a Paperino ma forse proprio anche il personaggio di Sepa Paperino mi è più fragoroso cioè si fa sentire di più secondo me distinguiamo tra i due media principali i cortometraggi degli anni 50 non a casa vedevano sempre tutti e tre insieme Topolino Paperino e Pippo e questo è uno di quegli aspetti che secondo me anziché spesso spesso vengono rimpianti non a casa sono stati creati il meraviglioso mondo di Topolino e altri cortometraggi perché c'era un po' questo assenza ma anche tutti gli speciali fatti dopo ci sono tutti e tre assolutamente dal punto di vista fumettistico si sono giocati la carta della geografia due abitano a Topolina uno abita a Paperopoli Pippo è lo stralunato quindi ha sicuramente un campo di azione molto limitato molto limitato anche se divertente Super Pippo è a sua volta una parodia di Superman che ha funzionato molto bene fino agli anni 70 80 ripreso parzialmente negli anni 90 però forse un pochettino è chiuso molto interessante erano quegli aspetti invece dei cartoni dove o spiegava gli sport o c'era quelli di Pippo in cui spiega gli sport veramente fantastici pazzeschi quella voce quella voce fuori campo che descrive che cosa fare è lui che ci prova tutto quel filone lì era giusto usare Pippo perché c'era quell'effetto visivo veramente molto molto macchiettistico che è inevitabile però sì Pippo è proprio una spalla Pippo è incredibile che adesso magari dirò una bestia per gli ascoltatori ma è Luca Laurenti di di Palo Bonodes quasi è il topolino Pippo è stata quella clamorosa parentesi molto corta negli anni 90 di quando era uscito al cinema in viaggio con Pippo che comunque è un cult che è assolutamente visto e la serie tv ecco Pippo in cui Pippo appunto era padre di Max abitava di fianco a Pietro Gambadiligno che era sposato con una famiglia ma è quasi come se fosse fuori continuity se dovessimo parlare di eroi ma dato curioso anche il fatto che i due personaggi secondari chiamiamoli così Paperino e Pippo abbiano anche avuto il loro alter ego supereroistico anche se premesso Paperino nato sempre in Italia con Paperino Topolino no cioè Topolino non ha avuto questo bisogno eh no 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 è quello che è pazzesco è sempre rimasto se stesso nel bene e nel male assolutamente l'altro filone di Paperino sviluppatosi sempre tra Italia e Brasile è quello del Paper Sera quindi quel Paperino giornalista in compagnia sempre di o di Paperogo in una versione un pochettino è un pochino più fantoziana quella visione lì di Paperino perché appunto non essendo giornalista deve fare il giornalista per pagare i suoi debiti e bla 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 però soprattutto in Brasile ha preso piega e no ecco visto che da un po' che su Telegram latita la rubrica dell'edicola sicuramente recuperare quei 10-12 numeri di Paper Sera che è un trimestrale che è uscito fino a un annetto fa è notevole è notevole doveva essere una mini serie di 4 numeri se non ricordo male siamo arrivati a 13 perché si è proprio ristampato tutto quello che era quel periodo lì perché facevano ridere oggettivamente era una via di mezzo tra da Ben Neill a tutta la sitcom anni 80-90 un po' slapstick con anche le risate però cioè sono cose che senza Paperino non avrebbero senso certo poi non l'abbiamo ancora citato ma è il caso di farlo cioè non possiamo esimerci la parlata cioè nel senso quanto questa ha reso la fortuna o anche la sfortuna di Paperino e forse è anche per questo che si vede meno e si sente meno ma quando si sente come se si sente perché comunque a volte è veramente comunque complesso mi immagino anche un bambino per un bambino magari a volte è difficile comprenderlo caspita no no io sono d'accordo con te tantissimo su questo punto e secondo te perché hanno cioè prevale questa scelta cioè nel senso proprio in ottica anche di favoreggiamento del personaggio anche versi più piccoli invece no ma allora secondo me poi bisognerebbe sentirlo anche doppiato in inglese lui non ha avuto tanti doppiatori come no e se non sbaglio era anche tipo il lattaio di Walt Disney che ha sentito questo comunque una persona non del tutto professionista che sapeva fare questo verso con la bocca che ha preso questo ruolo poi è diventato fondamentale l'ha creato Clarence Nash in modo di parlare di Paperina se vediamo chi era sicuramente è un lato un aiuto perché comunque nel suo essere così sgarbato irascibile e non sempre di facile gestione anche una parlata così fastidiosa può aiutare però con Duffy Duck la guarda in prossima ha fatto la stessa cosa ha fatto solo questa sì sì è stato più giovanottiano diciamo se non anche quel periodo breve di doppiaggio in italiano in cui Paperino parlava un po' così che lì era veramente una copriatura di Duffy meno male che è durata pochissimo certo meno male certo certo assolutamente però nonostante questo io comunque lo confesso tuttora a volte faccio serve concentrazione per capirlo ecco sì sì anche perché non tantissimo di recente comunque ho avuto modo di vedere la nuova serie d'acted su Disney Plus che vi straconsigliamo e ripeto vi straconsigliamo comunque anche lì rimane al di là che di lì c'è stato una una mia personalissima rivalutazione sul personaggio di Paperon dei Paperoni no no ecco no no cioè anche un Paperino quanto fa la fortuna di Paperon dei Paperoni e viceversa cioè essere esattamente ai lati opposti perché sono esattamente ai lati opposti eppure forse anche per questo funzionano insieme a meraviglia a meraviglia Paperino e Paperoni sicuramente devono molto a tutto il lavoro fatto da Carbarks e Don Rosa quello è assolutamente in questo caso che vi invitiamo a recuperare anche questo no questi sono proprio fondamentali fondamentali soprattutto in questa fase in cui sembra che per questioni di cancel culture alcuni capitoli di della saga di Paperoni e Paperoni potrebbero sparire per la figura del Dukongo dovete assolutamente recuperarli ecco secondo me in Italia è stato fatto un grande lavoro come sempre a livello umoristico però va detto che qua lo scheletro dei personaggi dei Paperi vincono un po' gli americani questo va assolutamente detto ed è anche il motivo per cui spesso tutti noi ci affezioniamo un pochino di più a tutto quello che è Paperopoli questo è un dato di fatto nel senso c'è un lavoro in Italia per svecchiare Topolino ma Paperino è una cosa che colpisce anche tutte le saghe più comiche di Silvia Ziche dal Papero del Mistero il grande Splash cioè c'è Paperino comunque è che è quasi sempre il centrale anche quando non lo è e poi va detto esatto cioè nel senso Duck Tales non è una serie sul Paperino assolutamente però lui cioè si sente o meglio più che lui c'è quasi si sente di più fa più rumore la sua la sua assenza che per un personaggio appunto rumoroso in tutti i sensi è una cosa pazzesca no Duck Tales a priori è una cosa che assolutamente va vista perché esce da non è che sia un'animazione per adulti però diciamo che chi ha un minimo di background di tutto l'universo Disney lo apprezza a livelli stratosferici con delle anche cammei presenze pazzesche e poi è un tentativo molto intelligente poi torniamo su Paperino di utilizzare i tre nipotini totalmente diversi l'uno dall'altro i bassi sono un po' meno macchiettistici anche loro ecco quello è un gran lavoro e anche quello anche diciamo gli antagonisti se vogliamo chiamarle così io in sede di presentazione ho definito Paperino l'anti-eroe in contrapposizione a Topolino però diciamo Cipio Chop e i nipotini sono diciamo le due grandi forze che vanno un po' a rovinare la vita al nostro papero e Gastone però mi è meno mi è meno presente secondo me sì no Gastone è un altro non dico che si nicchia però anche in qualcosa lì è vero cioè anche tutti i cortometraggi con Cipio Chop sono notevolissimi notevolissimi no no anzi quello quello è un altro bel lavoro che che adesso purtroppo quello è un pochino più da cultori ma come sempre l'invito è di recuperare anche quei bellissimi cortometraggi sempre tra anni 50 e 60 e qui qua stessa cosa magari fumettisticamente a volte ci può essere anche un'alleanza nei cartoni ne combinano veramente di tutti i colori assolutamente da quella della bambina io addirittura ricordo ancora quando i tre nipotini avevano la maglietta più tale la maglietta nera cioè ce n'è voluto perché arrivassero a mettersi anche la maglietta colorata ecco no è come è come vediamo ufficialmente qua visto che chiediamo di smentirci ma sarà impossibile qui rosso qua blu qua verde zero dubbi su questo mi raccomando invece a breviarci verso la conclusione mi è venuto qui questa domanda secondo te vedremo mai cioè Disney che comunque ci sta abituando ai live action come se non ci fossero domani la vedremo mai un live action con un topolino pipo e paperino un po' un po' o se non live action una cosa alla super mario bros speriamo di no sinceramente speriamo di no tu spero io spero di no perché poi nella mia mente scusami poi ti lascio finire c'è anche un risultato alla detective pikachu cioè una cosa del genere ma no diciamo che ecco anche sempre per stare in in Disney ci piaccia poi gente speciale per la versione live action super divertente assolutamente ma poi diciamo che in un anno di revival o film animazioni notevoli come super mario slam dunk e l'ultimo spider verse e in parte elemental che comunque mi permetto di aprire e chiudere una presi rapidissima recensione di elemental che trovate sul nostro sito e invece di spider verse la notizia che vi abbiamo dato qualche giorno fa se ci state seguendo live sappiate che esistono diverse versioni al cinema e qua potremmo farci una puntata noi nell'articolo abbiamo passato abbiamo lanciato abbiamo tirato il sasso se questa cosa potrebbe essere la nuova moda dopo le scene post credit nel senso è esplosa la mania delle scene post credit secondo me potrebbe esplodere la mania di registrare o girare qualche scena in maniera diversa chiusa la parentesi che è stata un po' più lunga quindi dicevamo siamo comunque nell'utilizzo di personaggi classicissimi in maniera molto 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 efficace la sfida è quella o hai dietro un team che a livello visivo e di sceneggiatura fa un lavoro della miseria perché io me lo sarei aspettato per il centesimo io adesso vediamo cosa succederà ma vedrai che io mi aspetto qualcosa in esclusiva sempre sulla piattaforma così non la citiamo più e corti io dico ancora corti proprio per rendere omaggio a come sono nati perché ricordiamo poi che il compleanno vero vero arriva poi a ottobre però comunque siamo già a metà anno dei cent'anni Disney tra l'altro giusto per autofarci pubblicità ma d'altronde siamo qua per questo trovate anche la notizia sul nostro sito che sta per arrivare l'edizione Lego la nuova edizione Lego celebrativa per i cent'anni di Disney del castello della bella addormentata dove nascosti ci sono quattore cifiavi quindi insomma trovate tutto sul nostro sito comunque nella nostra nuova sezione Lego chiusa parentesi possiamo anche dire che sicuramente in quello che è uno dei principali non piattaforme però mi verrebbe da dire uno dei principali punti di ritrovo dove si parla di papere e altro sono stati 20 anni paperoni anche in quel caso siamo arrivati molto prima di altri a raccontarvi assolutamente e trovate tutto sempre sulle nostre pagine detto questo fateci sapere se anche voi amate o odiate il personaggio di Paperino perché non credo che esista una via di mezzo per un personaggio come Paperino uno che possa lasciare indifferente o lo si ama o lo si odia quindi fateci sapere da che parte state e perché commentate pure direttamente su Spotify oppure potete trovare anche il tutto sul nostro canale YouTube o naturalmente sul nostro sito io ringrazio Mauro per essere stato con noi per questa puntata grazie Samu ciao a tutti un ringraziamento mio ovviamente a voi che ci avete visto e ascoltato e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata della nostra serie podcast a qualcuno mi piace nerd mi raccomando mettete la campanellina ovunque iscrivetevi su Telegram iscriveteci anche se vi inseriamo dove volete e non vi iscrivetevi se volete ciao a tutti e alla prossima puntata